Ciao a tutti, stamattina andiamo a vedere cosa contiene il pacchetto che mi è stato inviato dall'azienda Agricola Amabile per la collaborazione. Vediamo. All'interno possiamo trovare la brochure dell'azienda. Un'azienda che sorge a Castelvetrano, Trapani, comune della Valle del Velice, posto nella Sicilia occidentale, a pochi chilometri da Selinunta, antica colonia greca, si estende su una superficie coltivata interamente ad oliveto per molti ettari. Comunque poi la presentazione ve la inserirò sul blog come sempre. Guardate che meraviglia le bruschette con tutti i vari tipi di patè. Ah, e dietro troviamo tutti i siti, tutti i link del sito, le mail, facebook, whatsapp, il telefono. Benissimo, andiamo a vedere il contenuto ora. Il primo prodotto è questa busta di olive per aperitivo. Sono olive verdi, piuttosto grossine, vedete. E la confezione è da 250 grammi. Poi, mettiamola qua. Poi, il secondo prodotto Sono olive schiacciate condite. Questa confezione sembra quasi sottovuoto. La confezione è da 250 grammi. All'interno c'è anche del perzemolo, origano, peperoncino. Devono essere saporitissime. Poi, patè di olive condite. Una confezione da 180 grammi. Bella l'etichetta. E anche qua troviamo il peperoncino, il prezzemolo. Sono proprio perfetto, diciamo, per aperitivo, per stuzzichini. Poi, questo è un vasetto di patè di olive verdi. Per me è nuovo, perché di solito ho sempre assaggiato, provato, quello scuro. Ma questo verde è la prima volta che lo vedo. Molto bello il colore. Anche questo vasetto è da 180 grammi. E anche qua c'è del peperoncino. Sei contentissimo, Edoardo, che ama il peperoncino. L'ultimo prodotto sono queste olive nere infornate in salamoia. Sono belle cicciotte, come potete vedere. E la confezione qui è da 310 grammi, pesonetto. Bene. Buttiamo un attimo per terra la scatola. Questi sono allora tutti i prodotti che ho ricevuto. Ringrazio l'azienda Agricola Amabile, che è stata gentilissima. E in questi giorni io inserirò tutte le info sul blog, domani mattina probabilmente. E poi inserirò vari piccoli abbinamenti, varie piccole... Veri piccoli abbinamenti, varissime stuzzichini. E farò un piccolo video anche magari su YouTube. Canale che ho aperto da poco. Per il momento vi ringrazio. Vi auguro una buona giornata. E ci aggiungiamo a domani. Ciao ciao!